Oggi sono in compagnia di Mirko e facciamo un esperimento un po' diverso dal solito perché faremo un confronto tra tre diverse birre acquistate al supermercato Come vedete non sono da solo, infatti oggi c'è qui con me Mirko che è un brewer Ciao a tutti Ci siamo conosciuti a un corso di fermento birra, se non ricordo male Sì, esatto E poi al corso di Union Beer Rai Adesso, esatto, al corso di Union Beer Rai Siamo rincontrati al corso di UBT Appunto ho pensato di fare un video non più da solo ma in compagnia Perché innanzitutto per dividerci il volume di birra da bere E poi sono contento anche di farlo con te Perché al dire il fatto che della tua esperienza come un brewer Che secondo me sei anche molto bravo come degustatore Soprattutto perché abbiamo anche gusti diversi Che è una cosa molto utile secondo me Per avere un confronto più oggettivo Ecco, quindi può essere utile confrontarsi su... Avendo appunto dei gusti differenti L'idea del video di oggi era quella di prendere tre, in questo caso tre IPA Tre birre Che si possono trovare abbastanza facilmente al supermercato E provare a fare un confronto, una degustazione appunto di queste tre birre Per la precisione le birre in questione sono La prima è la Jasmine IPA di Steamworks Bierificio canadese Il costo di questa birra è 2,15€ Questa qui in mezzo è la Pank IPA di Brewdog scozzese 2,55€ il costo di questa bottiglia E la terza è la All Day IPA di Founders 2,65€ Il prezzo più o meno è simile di tutte e tre E proviamo a vedere un po' se ci sono delle differenze caratteristiche particolari Vediamo un po' cosa esce da queste bottiglie classiche da supermercato Tu le conosci già, le hai già assaggiate queste tre birre? Sì, le ho già bevute tutte e tre Si trovano molto facilmente la Founders e la Pank IPA Che sicuramente sono le due più famose Ma anche Steamworks si trova, penso alla Coppa Comunque in molti supermercati L'ho già visto come marchio Sicuramente Pank IPA è una birra storica molto famosa e conosciuta Anche Founders ha la sua bella storia negli States Qua si trova un po' più difficilmente Però sicuramente sono tre birre interessanti Sì, anche io Founders e Pank IPA ne ho già bevuta Devo dire che Steamworks la vedo spesso e non l'avevo ancora assaggiata Quindi per me questo sarà un primo assaggio Rispetto alle altre due che invece conosco già Quindi direi che possiamo iniziare ad aprirle Prima cosa che posso dire è che già dall'aspetto sembrano molto simili Sia come colore che come schiuma Un pochino più limpida la Pank IPA E più o meno però Un colore molto simile a tutti e tre Tutti e tre i colori sono identici In effetti sì, anche come limpidezza Forse questa qui la Pank IPA E anche la All Day IPA sono leggermente più limpide Ma è davvero poca la differenza Per quanto riguarda la schiuma Forse c'è un po' di differenza tra la Jasmine e le altre Anche se effettivamente c'è sempre il fatto che Quella che abbiamo versato prima sia già smontata un pochino rispetto a... Sicuramente tutte le schiume stanno scendendo Però mi sembra un pochino più persistente la Jasmine Rispetto alle altre due Sì, colore della schiuma direi identico Quindi sicuramente per quanto riguarda l'analisi visiva Sono tutte molto molto simili queste BR Direi di andare sul grosso quindi Dove forse possiamo trovare il grosso delle differenze Che è il naso Allora, scegli una fila Faccio quella dietro Tutta quella Jasmine Dopo un confronto tra le tre Al naso Quello che abbiamo notato Su cui ci siamo trovati subito abbastanza in accordo È che la Pank IPA Per intensità spicca Non di tantissimo È però un pochino più delle altre due Forse mettendole in ordine di intensità Metteremo la Pank IPA prima Poi diciamo forse la All Day IPA Sì, sicuramente l'All Day IPA come seconda Non tanto più intensa Anche la Jasmine come intensità Sono molto simili Solo che forse avendo degli odori un pochino più marcati Invece c'è la All Day Mentre la Jasmine è molto più delicata come profumi Penso che tra le due Un confronto di intensità lo vince comunque la All Day IPA Niente, appunto come l'ho già detto La Jasmine ha dei profumi un pochino più fruttati e delicati Mentre le altre due Usano sicuramente dei luppi americani più resinosi e intensi Sì, infatti anche la prima cosa che ho notato È che proprio la Jasmine va tanto sul fruttato A differenza della resina Che più o meno spicca nelle altre due Direi che possiamo adesso passare al palato Allora, dopo esserci confrontati Quello che abbiamo notato è sicuramente Una prima differenza tra la Jasmine e le altre due La Jasmine risulta essere più delicata E quel fruttato che trovavamo al naso Mentre le altre due andavano più sul resinoso Questo fruttato poi l'abbiamo ritrovato anche in bocca E leggendo il retro delle etichette Abbiamo scoperto che c'è un 5% di fiori di gelsomino E quindi questa sensazione che forse abbiamo pensato essere Appunto come un fruttato In realtà era un floreale Sì, esatto Prima l'avevamo identificato come fruttato Anche in bocca L'avrei definito una frutta delicata E sicuramente non avrei detto fiori Se non perché ci siamo accorti poi sulla bottiglia Di questo ingrediente Rimane sicuramente rispetto all'altro Appunto più delicata anche in bocca Leggermente meno amara Più sulla parte dolce diciamo E questi appunto Probabilmente questo amaro più delicato È dovuto per far sentire questi fiori Che sono stati aggiunti Che sarebbero stati nascosti Altrimenti da una loro popolatura intensa Mentre invece per le altre due Che appunto ci sono sembrate un po' più simili tra loro Un po' più paragonabili diciamo così Quello che abbiamo notato forse è che La Founders, l'Old e Ipa È leggermente meno bilanciata Tra dolcezza del malto e amaro Rispetto alla Pankipa Sì, sicuramente appunto La Pankipa è leggermente più maltata Ma anche con un amaro un pochino più intenso Mentre la Old Air rimane abbastanza leggera sul malto E quindi questo amaro si sente un po' di più Sì, devo dire che tutto sommato però sono abbastanza simili Cioè tra le tre sicuramente Sì, rispetto alla Jasmine Assolutamente La Jasmine è un po' fuori dal cuore Sì, esatto Anche meno persistente forse Come amaro in bocca la Jasmine Concordo Le altre due invece hanno un bel amaro Che rimane anche adesso che stiamo parlando Mentre la Jasmine molto più leggera Abbiamo anche cercato su due famosi social network Dedicati al mondo delle beer Comunque city Cioè rate beer untapped Come sono state valutate queste beer Dovendo fare ovviamente la solita promessa Che sono beer americane O comunque Stati Uniti Canada, Scozia Ma che si sono fatte comunque un bel viaggetto Per arrivare qui da noi Acquistate in un supermercato Quindi con tutti i problemi che sappiamo Possano essere Possono legarsi comunque alla distribuzione Nei supermercati E noi le stiamo bevendo ovviamente In un luogo di produzione Comunque fatta questa premessa Il punteggio su rate beer Partendo dalla Jasmine La prima È 76 su 100 Il punteggio della Pankeep Tenetevi forte È 96 su 100 Cioè tre punti dalla Rochefort 10 Giusto per intenderci E la All Day Ipa Invece su rate beer È 92 su 100 Su untapped i punteggi Sono tendenzialmente più bassi Ma comunque rispettano La stessa scala Diciamo perché La Jasmine è 3,62 su 5 La Pankeepa è 3,77 su 5 E la Founders è 3,72 su 5 Sei d'accordo con questa classifica? Con la classifica Cioè l'ordine che viene dato Dalle varie applicazioni Sì posso ritrovarmi Ritengo molto molto simile Anche per piacevolezza personale La Pankeepa E la La All Day Ipa È un pochino sotto La Steamworks Per il semplice fatto Che è appunto È più delicata Sì può essere interessante Ma sicuramente Da una Ipa Uno si aspetta Un po' più di intensità E quindi Tra le tre Posso ritenere anch'io Che sia al terzo posto Sulle altre due appunto Molto simili Mi ritrovo sicuramente di più Con i giudizi I voti di Untapd Che sono più umani Sicuramente non sono Birre da Eccellenza Penso anche Da fermentatore Di non poterle considerare Da 96 92 Voti molto alti Sicuramente sono dei begli esempi Dello stile Facilmente Trovabili Al supermercato E anche Economici Probabilmente Anzi sicuramente Bevuti alla sorgente Sono migliori Però Non mi sento Di dire Che siano Delle eccellenti Ipa Sicuramente Si trovano Dei prodotti Più interessanti Invece tu Come le trovate? Allora Anch'io Starei su questo stesso ordine Cioè sicuramente Premierei la panchipa Sulle altre due Principalmente Perché Però qui Forse anche il gusto personale Mi piace di più Quando è bene equilibrato Il dolce del malto Con l'amaro La jasmine Si è interessante Però Sembrerebbe un po' Forse fuori categoria Nel senso Che è proprio Molto più delicata Quindi come intensità totale Su un livello Un po' più basso O magari Una session Un ipa Potrebbe andar bene Si Come intensità Esatto Come intensità Si sicuramente Però si Sono assolutamente D'accordo con te 96 per la panchipa Mi sembra davvero eccessivo Si è vero Sarei curioso Di assaggiarle In Scozia Fuori dal Cioè sulla tapero Fuori dall'attaccata Fermentatore Però 96 Stiamo parlando davvero Di punteggi Davvero molto Molto alti Cioè ben oltre Il 9 e mezzo Mi sembra un pochino Esagerata C'è la fama Sicuramente Di Brewdog Però Non credo Possa giustificare Il punteggio Ecco Considerazione Che stavamo facendo Adesso E che Beh Dicevamo appunto L'obiettivo del video Era far vedere Birre Tutto sommato Comunque Secondo Secondo noi Valide Soprattutto per 2 euro Al supermercato Possono essere Sicuramente Un acquisto Valido Ma giustamente Stavamo riflettendo Sul fatto Che ci sono Anche in lattina Tutte e tre Queste bottiglie Sarebbe interessante Forse fare un confronto Tra queste bottiglie Che subiscono Purtroppo Un trattamento Magari non adeguato Perché appunto Sappiamo Problemi della distribuzione Ma magari Nella lattina Potrebbe cambiare qualcosa Potrebbero essere Un po' più protette Dalla luce Per esempio D'altro canto Potrebbero essere Un pochino Più soggette A disbalzi termici Perché la lattina È più sottile Sarebbe interessante Magari Ce lo teniamo Come Possibile Se riusciamo A recuperare Tutte e tre Le lattine Sarà Un confronto Interessante Esatto Fare un confronto Tra quello che sono Le bottiglie Nel supermercato E le lattine Nel supermercato Della stessa birra Che dire In conclusione L'altra considerazione Che abbiamo fatto Che appunto La jasmine Ci è piaciuta Ma in un confronto Tra le tre Risulta quella Meno Meno intensa Anche se adesso Scaldandosi un pochino Forse è uscito Qualcosina in più Il che non significa Che non sia una buona birra Anzi Tutt'altro Però probabilmente Se siamo Nella situazione Come quella attuale Cioè di confronto Tra le tre Si avverte Di più forse La minore intensità Sì assolutamente Presa singolarmente È una buona ipa Da Soprattutto appunto Come già detto Tante volte Rispetto al costo E Nel confronto Con le altre due Siccome le altre due Sono molto simili Come intensità E amaro Perde un po' Diciamo Questa sua Parte delicata Non la fa spiccare Rispetto alle altre due Speriamo che vi sia piaciuto Questo video Che effettivamente Non mi era mai capitato Di fare Un confronto Di questo tipo Abbiamo già un po' Di idee Infatti per Prossimi video Bottiglie Anche più Grandi Da assaggiare Sicuramente E niente Vediamo un po' Adesso Ci organizziamo Per fare un prossimo Assolutamente Un prossimo video Speriamo 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 Grazie per la visione!